Ciao a tutti, benvenute e bentornate sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi lo spacchettamento della Madame Glam. Vi ricordo come sempre che il sito è americano e trovate giù nell'infobox tutti i miei calci sconto, nel particolare appunto di Madame Glam, il calci sconto del 30%. I colori già ve ne ho parlati tantissime volte, io li stra adoro, mi piacciono tantissimo e qua ho alcune collezioni da mostrarvi. Ovviamente le andremo a stendere insieme perché mi sono anche già preparata le tip, di modo da poterli anche commentare insieme. Questi che vedete qua sono 5 dei 10 colori, perché dovete sapere che ogni collezione contiene all'incirca 10 colori, della collezione quella pensata per San Valentino. Sono colori magnifici, appunto ripeto qua ne ho solamente 5 e quindi lo andiamo a stendere insieme. Vi ricordo che sono comunque colori grandi perché sono da 15 ml e trovate una goccia del reale colore sul tappino, quindi una volta riposti così dentro al cassetto si vanno a riconoscere molto velocemente. Le andiamo a stendere quindi insieme. Inizio da questo rosa che si chiama così e prendo la tip. Le andiamo a stendere insieme così almeno vi mostro anche il colore e la scrivenza perché questi colori di Madame Glam scrivono divinamente. A me piacciono tantissimo, ne ho diversi ragazze e il sito è americano perché le cose vengono da New York, ma non vi preoccupate ragazze perché comunque potete fare la traduzione del sito. Se accedete comunque con Google c'è la traduzione del sito. Sono colori che si autolivellano e sono super scriventi. Sono colori vegani, non testati sugli animali, a me piacciono moltissimo. Questo qua è il primo che vado a mettere in lampada e andiamo avanti con la stesura. Poi quest'altro colorino qua che è una sorta di lilla direi. Andate sempre come tutti i colori a sbatterli un pochino e andiamo a stendere anche lui. Hanno tantissimi colori a catalogo ragazze, sul sito ne trovate davvero tante. Quindi ogni mese loro fanno uscire una collezione. La spedizione qua in Italia ci vuole circa... Allora, con i tempi del coronavirus ammetto che è prolungato. Prima mi arrivava in circa due settimane, magari adesso ci mette anche tre, ma dipende. Magari 20 giorni, più o meno comunque quella la tempistica, non ci vuole tantissimo. Anche lui è super scrivente, lo metto in lampada. E appunto fate la traduzione del sito che trovate come sempre qua sotto nell'info box. Andiamo a stendere Dolce Vita, questa volta un nome in italiano, che è questo bellissimo. È una sorta di fucsia, molto bello. E quindi ragazze potete avere anche la spedizione gratis, sopra ordine di 100 dollari. Non vi preoccupate che per vedere, guardate la scrivenza impeccabile del colore. Per avere comunque la sicurezza di quanto state spendendo, potete fare il cambio valuta su Google. tenendo comunque presente, bellissimo questo colore ragazze, tenendo comunque presente che un dollaro equivale circa 85 centesimi, più o meno. Quindi il cambio è simile, è leggermente meno. Poi andiamo a stendere questo bellissimo. È diverso dall'altro, perché vedete che sono due tonalità completamente diverse. Lui vira un pochino più sul rosso e si chiama You Wish. Si rimuovono benissimo con solvente, le ho già provati. Li testo ormai da tantissimo tempo e mi piacciono moltissimo. Questi, ragazze, io ve li straconsiglio. Sono dei colori ottimi, veramente. Se avete la possibilità, provateli. Guardate la scrivenza. Magnifica. Anche lui vado a mettere in lampada. E l'ultimo della collezione di San Valentino che dobbiamo provare è questo aranciato. Vado un pochino a mischiarlo. Però nella collezione, se non ricordo male, c'era anche un bel giallo. C'erano altri tipi di rosa. Mi fanno mensilmente delle nuove collezioni. Guardate la scrivenza. Vado a mettere anche lui in lampada. Così vi mostro l'altra collezione. Vi mostro, ragazze, i cinque colori stesi. Un'unica passata, ci tengo a precisarlo. Sono tutti super scriventi. Molto belli. Vi mostro adesso, ragazze, alcuni dei colori della collezione Elite. La caratteristica di questa collezione è che all'interno, vediamo se riesco a mostrarvelo. Sì, si vede. Hanno tutti dei micro micro glitter molto belli. Anche di questi vorrei stenderli insieme per mostrarvi appunto la scrivenza e via dicendo. Iniziamo con questo colore qua, che è extravaganza. Faccio un pochino di zoom. eccoci qua. Questo è il colore e anche di qui appunto trovate altre tonalità sul sito. Eccolo qua e contiene appunto questi micro glitterini. Spero che si riescano a vedere dal video. Ok. metto in lampada e vi mostro il prossimo. Che è strawberry milk. Che è questo rosa. Molto, molto bello. Anche lui lo andiamo a stendere insieme. Così vediamo la colorazione. e la coprenza. Si livellano perfettamente eh ragazze. Eccolo qua. Ve lo mostro anche da vicino. E c'è i glitterini. Questo qua sembrano un pochino dorati e molto belli. Anche lui in lampada. Io li lascio 30 secondi ragazze questi. Il terzo colore è cake for dinner. Che è questo bello. Lilla. Andiamo anche lui a vedere insieme. Molto bello. eccolo qua. Anche lui ve lo mostro da vicino. Di modo che possiate vedere i glitterini che ha dentro. spero. E lo metto in lampada. Comunque ragazze è esattamente uguale al colore del tappino. Perché la goccia che vedete dentro non è un cartoncino o altro. È proprio la vera colorazione. Il quarto colore ragazze è bubblegum sky. Che è questo azzurrino molto bello. Sbagliato tip. Ok. Sono in quadratura. Sì. È un azzurro molto delicato. Allora questa collezione qua non è composta da colori molto forti. Molto accesi. bensì appunto da colori delicati. Vedete? Ve lo mostro anche da vicino. Spero che si riescano a vedere i glitterini. Anche in questo caso. Molto belli. Sono sull'azzurro. Sono super sottili ragazze. Molto molto sottili. Poi ultimo colore. Che è jasmine tè. Lo vado un pochino anche lui a sbattere. E lo stendiamo insieme. Allora è un pochino strano come colore questo. Perché non so dirvi se è una sorta di verde grigio. particolarissimo. Davvero particolare. Ma molto bello. Anche qua i glitterini sono sul verde. Eccoli qua ragazzi. Questi qua sono invece i colori della collezione Elite Stasi. Spero che si riescano a vedere tutti i micro glitter che hanno ognuno di loro. Perché sono tutti con dentro dei glitter. Per ultimo ragazze ma non di importanza. Vi mostro tre colori della collezione Metallic Ink. Ci sono altri colori ovviamente anche di questi sul sito. Altri che non sono invece Metallic. Anche qua come vedete c'è la prova del colore. Vengono utilizzati un po' come fossero una sorta di acquerello. E si possono utilizzare per diluirli anche il cleaner. Quindi noi sulla superficie appoggiamo questi Metallic Ink. Che sono molto liquidi di presenza. Ve rimostro. Eccoli qua. Vedete? Sono molto liquidi proprio. E appunto l'utilizziamo per fare questo effetto appunto questa sorta di acquerello. Questo qui è il rosso. E poi c'è il dorato. Possiamo anche fare una sorta di effetto marmo. Un maculato macchiato. Insomma ci possiamo sbizzarrire. E quindi ragazze nulla. Io spero come sempre che il video vi sia stato utile. Che vi sia piaciuto. Io vi mando un grande bacio. Se siete arrivate fino a qua lasciatemi un like per supportarmi. Vi invito come sempre a guardare giù nell'infobox. Perché troverete i miei codici sconto. E i link ai vari siti. Io vi mando un grande bacio. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.